No, sta andando via al cimitero, la parte centrale, tra l'angolo e la parte centrale. Stai lì, Cristian. No, no, ma sta andando giù. Anche i gabbiani l'hanno capito. I gabbiani si sono alzati dal tetto perché sentono che sta scendendo. Cristian, dove cazzo vai? Fami fare le foto. Sì, siamo sui tetti. Sta andando, sta andando. Eh, 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 mamma mia.